rapidi. Abbiamo infatti pensato di poter dare un nostro contributo significativo, soprattutto adesso nel periodo dell'atunno, dove ci potranno essere tutta una serie di sintomatologie legate anche alle influenze che potrebbero appunto creare problemi di sovrapposizione di sintomi e quindi sarà importante fare un'indagine attenta per capire se dei sintomi anche semplici legati alla piccola influenza o al raffreddore sono legati all'influenza stagionale o sono legati al Covid. E quindi permetteremo ai nostri cittadini di poter effettuare gratuitamente i test rapidi che nel giro di 10 minuti potranno dare una risposta, nel caso in cui saranno positivi verranno naturalmente poi sottoposti a indagini attraverso gli organi preposti. Questo è un modo per cercare di gestire al meglio e di aiutare la sanità pubblica a gestire al meglio appunto il nostro territorio, visto che durante la fase della pandemia purtroppo il Valdarno è stato soggetto, purtroppo ha dovuto convivere con un numero altissimo di casi, soprattutto legati all'ambito sanitario. Quindi questo è un modo da parte della nostra comunità di aiutare a gestire al meglio questo fenomeno e cercando di non gravare appunto sugli ospedali. Grazie.